dopo aver fatto la base con acqua color nero e un pennellino d'eyeliner disegno pazientemente tutte le tessere del puzzle grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione nelle zone in cui non ho disegnato tessere applico dell'acqua color nero per mimetizzarmi poi con lo sfondo grazie per la visione 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 Questo è il risultato finale, io spero vi sia piaciuto, vi mando un bacio e noi se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao